Ciao ragazzi, io sono Laura e sto a casa. Si viene tornata da scuola ho mangiato perché avevo fame un po' perché sono in scuola a l'una. Sono in misa, sono le due, ho fatto un po' di... ...so guarda di cartone. Ah, ecco. Qua c'è il mio cammino. Siete? Allora, che fate? Io sto giocando. Non so. Qualcuno mi chiede in tutti i video ma c'hai la play, ma c'hai la play, ma c'hai la play. Io non c'ho la play, chi vuole saperlo. Quindi non mi date dei giochi con la play perché io non c'ho la play. Quindi, non c'ho la play. Allora, ditemi qual cartone è meglio per voi. Questo, adesso c'è questo cartone. Sì, ce l'ho fatta. Hai finito la tua invenzione? Non proprio, manca ancora qualcosa, vado a prenderla. A che serve questa invenzione? Può farmi tornare con il mio amore? Ho fatto così da tutto. Lo scoprirete quando sarò tornata. Potreste venerla sicuro per me? Ma certo, puoi contare su dei rovi. Vero, Rio? Grazie, tornerò per questo. Devo dare al massimo un taglio con me. No! Dai attenzioni, Rio! Rio! Quello che cos'è? Non mi aveva idea! No! Oh, una palla laser! Non ne avevo mai vista una! Ragazzi, vedete il mio cane? Si è addormentato. Ehi, un cane finto. Però faccio finta che si è addormentata da solo e lo devo portare in pizza. Quindi devo vedere come si fa. Sto guardando un attimo in giacartoni perché... Mi fa parlare, mi fa parlare, mi fa parlare. Forse sarà meglio curare questo super singhioso... Ciao!